Scusami, io e la mia amica da ieri stiamo impazzendo, ma sei tu o non sei tu? Scusami, ci stiamo rimulgendo ai sorcini, ma sei il vero Renato? Ma no amore, sono Stefano Damiani, socio ufficiale del Pasquale per l'Italia, senza parrucchie né artifici, cercami, doppio zero bene. Grazie, ciao!